Musica Buonasera, buonasera e benvenuti a Portfoglio, il programma che si occupa dei vostri risparmi e come sempre parleremo un po' di scenari ma poi andremo nel concreto per vedere un po' dove è meglio investire i pochi soldini che abbiamo Cominciamo subito con il presentare chi ci accompagnerà nelle prossime puntate, abbiamo una nuova presenza che è Zena, buonasera Buonasera, buonasera a tutti Ci racconti un po' chi sono gli ospiti di oggi, di questa sera? Allora, questa sera abbiamo Maurizio Esentato di Classes Capital Buonasera Poi abbiamo Roberto Anselmini, consulente indipendente Buonasera Francesco Sacco, professore dell'Università Bocconi Buonasera E Massimo Fracaro, direttore di Corriere Economia Buonasera a tutti Benissimo, e con questi ospiti parleremo oggi un po' di gioielli Gioielli inteso in due sensi, in senso tecnologico come può essere appunto il caso di Apple E gioielli dal punto di vista invece molto più concreto e più a cui siamo più abituati Cioè di oro, di quanto vale la pena investire in oro E parlando di gioielli appunto, prima domanda la farei non agli ospiti ma la farei proprio alla nostra Zena Chiedendo a parità di prezzo, preferiresti due orecchini o un iPhone? Penso che opterei proprio per un MacBook Pro direttamente, magari 15 pollici, super accessoriato Questo per appunto, tanto per avere un primo indizio di come i valori anche nel mondo femminile cambiano E i gioielli non sono più solo quelli legati a loro ma anche quelli tecnologici Ma per parlare di Apple ovviamente non possiamo non partire dal suo fondatore, dal mitico Steve Jobs E proprio a questo proposito abbiamo un pezzo tratto dal sito jacktech.it In cui ci spiega un po' chi è Steve Jobs e che metodo di lavoro utilizzava Prego Felice Froio La fissazione per la semplicità di Steve Jobs si notava in qualunque cosa facesse all'interno di Apple Se per esempio doveva fare una riunione cercava sempre di limitare al minimo indispensabile il numero dei partecipanti Ogni meeting poi non doveva durare più di 30 minuti e molto spesso finiva ben prima Ai suoi dipendenti non chiedeva mai due opzioni per lo stesso prodotto o servizio Ne voleva solo una ma che fosse la migliore possibile All'inizio Jobs sembrava brutale ma era brutalmente semplice e diretto Andava subito al dunque e chiedeva ai suoi collaboratori di fare la stessa cosa Questo modo di essere, di lavorare ben presto ha prodotto ottimi risultati di immagine e commerciali L'idea stessa che non si potesse essere alternative migliori al prodotto presentato che era tutta interna all'azienda E' stata riportata tale e quale ai consumatori I quali, nonostante il fatto che i prodotti Apple non fossero affatto sempre i migliori Ci hanno creduto per anni diventando a loro volta fedeli adepti della religione di Jobs Ancora oggi chi compra un iPhone è convinto che sia semplicemente il miglior smartphone E chi compra un iPad che sia semplicemente il miglior tablet Ma se gli chiedi perché semplicemente non lo sanno E su questa nota che è ironica ma ha anche un senso Io comincerei proprio ad analizzare un po' il fenomeno Apple Devo dire che sono affascinato dallo stile del lavoro di Steve Jobs Perché penso che siete d'accordo con me tutti se il fatto delle riunioni brevi Che sarebbe una cosa utilissima da introdurre nel mondo del lavoro Perché le riunioni di 30 minuti penso che siano un'araba fenice per molti Ma andiamo un pochino al di là delle riunioni di 30 minuti che sono importanti Ma partiamo un po' dall'amministratore delegato esentato E vorrei chiederle un po' qual è la storia del successo Qual è il segreto del successo di Apple A cominciare magari da alcuni segreti come può essere il marchio La forza del marchio, il nome Che sicuramente attira i clienti in maniera automatica Perché le file che vediamo prima ancora che esca un modello nuovo di iPhone È una fiducia che rasenta il fideismo nella marca Lei giustamente faceva riferimento a riunioni molto brevi Però settimane che duravano anche 90 ore di appunto lavoro in defesso Quindi la massima attenzione al dettaglio Al design E soprattutto a sintonizzarsi con il cliente È stato molto bello quello che ha detto la presentatrice Zena Capire anche il cambiamento delle abitudini di consumo Imporle in maniera contraria Quindi molto prima che altri vedessero nella società dei cambiamenti Steve Jobs è la persona che ha immaginato da subito di andare contro IBM Precedentemente il computer era fatto per le aziende Era in ambito aziendale L'ha immaginato invece per l'utente finale, per il cliente, per noi E questo è stato un sogno Un sogno che ha coltivato per tutta la sua vita Sempre con la massima attenzione Il testo che ci è stato letto evidenza e sintetizza probabilmente la forza e successo di Apple Si compra un oggetto senza magari conoscerne in toto le potenzialità Si acquista un sogno, un modo di essere, un modo di vivere E si è felici di condividerlo con gli altri È però una storia che ha avuto pieno successo negli ultimi dieci anni Prima ha avuto anche delle difficoltà ad affermarsi sul mercato davvero pesanti Si, infatti a questo proposito io sono andato un pochino a guardarmi le quotazioni delle azioni Apple Tanto per avere un po' un'idea E in effetti mi sono insegnato proprio a ottobre 2008 Un'azione Apple valeva 10 dollari Oggi siamo a 630 dollari circa Quindi chi avesse investito anche solo 4 anni fa avrebbe fatto veramente una fortuna Molti però si chiedono ma a fronte di questa crescita esponenziale delle azioni Ma oggi può ancora aver senso investire in Apple oppure è cresciuto troppo E quindi uno rischia di entrare e poi le azioni crollano all'improvviso La domanda è assolutamente pertinente Ci troviamo oggi probabilmente anche, non voglio definirla con una coda Perché coda è qualcosa che è alla conclusione di un periodo Sicuramente gli ultimi prodotti, quelli che sono stati lanciati Quindi l'iPhone 5 e il prossimo, diciamo, tablet Rappresentano probabilmente la massima espressione di Apple Così come Steve Jobs l'aveva voluta Oggi Apple capitalizza circa 600 miliardi di dollari Che è una dimensione spaventosa Parlavamo prima Quasi il PIL della Svizzera Una sola società vale l'intero PIL della Svizzera L'intero PIL del prodotto interno lorda Svizzera Tutta la ricchezza che crea la Svizzera in un anno Apple la fa come società, come valore di borsa ovviamente Ovviamente che poi oscilla di giorno in giorno Ed è un valore così diciamo così aleatorio Che non è, cioè che da un giorno all'altro È un valore virtuale diciamo Però diciamo che sicuramente aiuta l'economia americana Sì addirittura si stima che la vendita dell'iPhone 5 PIL possa valere il mezzo punto di PIL degli Stati Uniti E allora io faccio tutta la domanda al professor Sacco Ma perché non abbiamo un Apple anche in Italia? Beh una bella domanda Ci sarebbe comodo un Apple in Italia Soprattutto con i tempi che corrono Esatto In realtà noi in Italia tradizionalmente in settori diversi Avevamo tante Apple capaci di fare lo stesso tipo di innovazione Cioè non un'innovazione che completamente cambia il prodotto E crea una nuova tecnologia Perché Apple non l'ha mai fatto Lo schermo a finestre che conosciamo Che ha reso Apple famoso nel mondo In realtà non è stato inventato dall'Apple È stato adottato dall'Apple Ma è stato creato nello Xerox Spark Lo stesso mouse Come anche altre cose che l'Apple ha fatto L'Apple non è stato il primo a produrre un lettore di musica digitale MP3 Come non è stata la prima a produrre uno smartphone Sono stati quelli che l'hanno fatto meglio degli altri Quindi capaci di mettere insieme le innovazioni Nello stesso modo Gli italiani sono sempre stati tradizionalmente bravissimi Nel riuscire a mettere cose soprattutto nel settore moda In modo ottimale rispetto agli altri La stessa cosa abbiamo fatto nel design Cura del dettaglio maniacale Capacità di integrare professionalità e innovazioni Che vengono da qualsiasi ambito In prodotti molto complessi Questo Apple è riuscito a farlo meglio di chiunque altro In Italia noi potremmo farlo Perché abbiamo queste competenze Storicamente non l'abbiamo fatto Perché non siamo mai riusciti Anche se abbiamo avuto delle grandi occasioni Come per esempio nel passato con la Olivetti La mitica Olivetti che ha creato tante idee Ma poi purtroppo oggi è ridotta a maluccio Rispetto alle premesse che aveva qualche decennio fa Ma è proprio il sistema finanziario Cosa è successo? Perché non siamo... Le teste ce le abbiamo in Italia Perché non riusciamo a portare in commercio le idee che abbiamo? Cosa ci manca? Molti degli snodi dell'informatica Della grande informatica In realtà sono passati per Olivetti E sono anche passati per l'Italia Ma non c'è mai stata da parte del paese Da parte del sistema economico Nonché anche del sistema politico La capacità di riuscire a vedere in quel prodotto una ricchezza Oggi se noi dovessimo anche dire in un discorso politico Ma è più importante manufacturing Quindi produrre le cose concrete Oppure progettare Perché il modo di fare ricchezza alla Apple E loro non producono nulla È un modo molto orientato a quello che è il pensiero La creatività pura Non producono nulla Cioè lei ci sta dicendo che l'Apple non esiste In realtà Esatto È un nome Ma le cose che prende cose fatte da diversi produttori È tutto prodotto da terzi Tant'è vero che quasi la metà dell'iPhone È prodotta dal maggiore concorrente di Apple Samsung Quasi la metà è in valora Che è paradossale se vogliamo Ma perché loro hanno deciso proprio di non produrre nulla Di concentrarsi solo nella ricerca pura È come se noi dismettessimo il design La moda La produzione Ci concentrassimo solo nel fare moda Nel concepire la moda Poi Apple è geniale perché è come se uno va al supermercato E paga il carrello in cui mette la spesa E poi ci mette la spesa Che tu compri l'iPhone O il telefonino, lo smartphone, il tablet E lo paghi già a 700 euro diciamo qui l'iPhone E poi questo qui è un contenitore quasi vuoto Se non compri le applicazioni Che poi fanno Che vanno circa il 30% Ogni applicazione il 30% del costo va all'Apple In pratica vendono un contenitore Come se vendesse un carrello della spesa vuoto E poi lo riempi C'è una generata E per ogni articolo che uno compra il 30% resta al carrello E su questo stanno facendo un'altra innovazione Che è paradossale Se vogliamo è anche in tema con quello che è la serata Cioè l'oro oppure la tecnologia In realtà dall'anno scorso Diciamo il negozio che più fa Fatturato per metro quadrato Prima era Tiffany Oggi è invece un Apple Store E le donne hanno cambiato gusto Perché sono loro il motore dello shopping Non solo in Italia Ci dobbiamo lasciare per due minuti per la pubblicità Ci vediamo subito dopo sempre qui Ed eccoci qui sempre a parlare di gioielli Abbiamo cominciato con quelli tecnologici Poi parleremo di oro Ma continuiamo sui gioielli tecnologici E quindi su Apple in particolare Abbiamo detto appunto che Apple In un certo senso non esiste Nel senso che esiste come marchio Ma in realtà la produzione Poi viene distribuita In giro per il mondo Magari soprattutto nell'est asiatico Ecco a Fraccaro volevo chiedere però Che volevo chiedere una cosa Perché se in Italia purtroppo Apple non è nata Poteva nascere magari un concorrente Poteva nascere un Samsung Ma Apple è un caso straordinario Di imprenditoria Penso che se ne verifica uno Ogni nella storia probabilmente Credo O comunque uno ogni secolo forse Perché non esiste una società Che abbiano fatto un così grande successo Credo no? Però possono essere Se pensiamo che da quando è nato L'indice Dow Jones C'è l'unica società che c'è dentro Che genera l'elettrica Le altre sono scomparse tutte Perciò Apple Questo che dice in realtà Ci fa un po' ragionare anche Sul nostro indice Delle nostre azioni Perché se guardiamo Le nostre prime 20-30 società Sono le stesse Da un secolo Credo Mentre invece negli Stati Uniti L'indice cambia molto Ci sono sempre società nuove Questo è un segno anche Del cambiamento Nostri poi sono tutti titoli finanziari Mentre noi siamo un paese manifatturiero Questo è il grosso grande problema D'Italia Che è un paese che trasforma In cui però se noi guardiamo La capitalizzazione di borse È fatta quasi tutto da banche Abbiamo grossissime imprese familiari Cito due C'è la fabbricità Barile e Ferrero Ad esempio Che non sono quotate Cose invece all'estero Potrebbero benissimo Fare molto lustro All'istino italiano Vediamo anche i marchi della moda Gli italiani Quando sono andati in borse In Italia Hanno avuto un gran successo Alcuni sono andati addirittura all'estero Abbiamo grandi capacità Però effettivamente Come ho detto prima Non c'è stato il sistema Per esempio I francesi hanno creato Dei campioni nazionali Hanno fatto tutto il paese Su alcune grandi imprese Noi abbiamo avuto Anche delle innovazioni particolari Ricordavamo prima li vettima Pensiamo Omnitel Per esempio Sui telefonini Era sicuramente Una grande idea innovativa E poi è stata acquistata Da Vodafone Era Pensiamo anche Non so A Benetton stesso Che era uno dei primi marchi Però adesso è stato sul cassato Per quanto riguarda il test Da Zara O dei C&M Potevano essere benissimo Nostre imprese quelle Ecco Restiamo sulla tecnologia Le chiedo solo una cosa Perché Su Samsung Nel senso che È vero Apple è nata negli Stati Uniti Però magari Potevamo puntare Arrivare secondi in classifica Con Samsung Magari Ma anche Samsung Non è nata in Italia Ci spiega Da dove viene Samsung E che azienda è Qual è il È una società coreana Ed è il vero rivale Diciamo così Per quanto riguarda Il prodotto Nel senso pratico L'hardware Di Apple Per quanto riguarda I telefonini Lo smartphone E l'iPad Apple però È una società Talmente strana Che è rivale di tutti Perché è rivale di Samsung Per quanto riguarda L'hardware Però è rivale di Google Quello del motore di ricerca Per quanto riguarda I sistemi applicativi Dello smartphone E dell'iPad È rivale anche Di Amazon Perché vende musica Così Comunque Samsung È adesso Come adesso Il più grande produttore Di smartphone Nel mondo Ha venduto 60 milioni Di smartphone Nel trimestre Nel terzo trimestre Dell'anno iPhone Apple Ha venduto 5 milioni Di iPhone In 5 giorni Perciò potrebbe Riconquistare Il primato Però è la più grande Diritta produttrice Di telefonini È in guerra Frenata con Apple Vi ricordate Sono state delle cause In cui per ora Ha vinto Apple La prima causa In California Però Samsung Ha ribattuto Per violazione Dei diritti Dei brevetti Ad Apple In altre cause In vari paesi del mondo Ed è un grossissimo Conglomerato Che era nata Per Che è diventata La più grande Produttore di elettronica Di consumo Perché è stata Il primo televisore In bianco e nero È una società coreana Rappresenta Una grossa fetta Del P Ha alcuni Anche Punti di incontro Con Apple Rappresenta Una grossa parte Della Corea Ed è sicuramente Una società più innovativa Addirittura L'ultimo telefonino In Galaxy Secondo una bibbia Dei consumatori americani È leggermente migliore Addirittura Dell'iPhone 5 Perché contiene Alcune tecnologie Su cui Apple Stranamente non ha creduto Come la tecnologia Che consente Di scambiarsi Immagini e foto Mettendoci solo vicino I due telefonini Oppure addirittura La tecnologia Che consentirà Di pagare Sia Dal tram All'autobus Ma anche L'ingresso in museo Col telefonino Direttamente Sostitutivo Anche Della carta Guardia E loro hanno La più grande innovazione Per ora è loro Ed è una guerra È una corsa a due Stantemente Chi dominerà Questo mercato Ecco Accennato agli operatori Telefonici Infatti intanto Chiedo alla regia Di mandarmi la grafica Proprio relativa Agli operatori telefonici Perché anche Con esentato Vorrei fare un ragionamento Proprio anche sul resto Della tecnologia Perché abbiamo parlato Di Apple Ma Apple alla fine Viaggia Diciamo Usa Usa le linee Le linee Degli operatori telefonici Abbiamo questo Grafico Su Telecom Italia Telefonica Come lo interpreta Questo è l'andamento azionario Di Telecom Italia Appunto In ultimi sei anni Telecom Italia telefonica Che interpretazione Dà di questo grafico Perché l'Italia Il campione italiano Diciamo Non è tanto campione Ma un po' sotto Beh Intanto Se mi permette Seguendo Il filo del discorso Che è stato abbozzato Apple effettivamente È rivale In vari settori Di mercato Sicuramente Ha dato fastidio E ricordo ad esempio Il caso di Vodafone Che non ha voluto Inizialmente Vendere l'iPhone Perché comunque Apple è anche molto capace Molto forte Nel potere contrattuale Quindi nel chiedere le royalties Ma Vodafone Ha dovuto poi Ricredersi Perché ovviamente I clienti lo chiedevano Quindi è la capacità Veramente di un'azienda Di essere trasversale 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 significa Ad esempio Che non solo Nel segmento tecnologico E delle telecomunicazioni Ma penso anche A defunti illustri Noi abbiamo Il caso Di Isman Kodak Che è fallita Cioè la Kodak La Kodak È una società Che è fallita Come è fallita Fuji Quella dei film Perché? Perché non è stata Tanto messa in crisi Dalla macchina digitale Quanto direttamente Poi dall'iPhone E quindi dal telefonino Un altro esempio è no Chiedo la regia Ma andami la grafica Sugli operatori tecnologici Così L'accompagniamo Nel ragionamento Ecco Torno Nella slide precedente Avevamo visto Gli operatori telefonici Che erano considerati Di fatto Primi anni 2000 E successivamente Ricorderete anche Famose diatribe Modelli di business Telecom Italia Che voleva diventare Media Company Nel 2007 Chi è andato Verso un'internazionalizzazione Verso chi La focalizzazione Risultato Era nella slide precedente Crollo verticale Della capitalizzazione Di borsa Chiedo alla regia Di mandarci La grafica precedente Che era quella Sugli operatori telefonici Esattamente Questo vedete Il prezzo Di fatto Normalizzato Fatto 100 Le quotazioni Sia di telefonica Che di Telecom Italia Abbiamo voluto Effettivamente Enfatizzare Due storie Molto diverse Un operatore Di fatto Tradizionale Nemmeno troppo Tecnologico Al netto Delle ultime Diciamo Presentazioni Nazionale Un campione Italiano Perché Il grosso Del fatturato Viene fatto In Italia Telefonica Invece Che è stata La blue chip D'eccellenza Diciamo Dei vecchi operatori Cosetti Incambent E telefonica Anch'essa Ha subito Un crollo Verticale Delle quotazioni Viceversa Chi è invece Stato Fruitore Cliente Che ha utilizzato Le reti Quindi abbiamo Fatto il caso Di Apple E Nokia Abbiamo visto Due Tendenze Completamente Diverse Apple Operatore Di riferimento Quando parliamo E diciamo Che Apple Capitalizza 600 miliardi Di dollari Circa Il PIL Della Svizzera E anche Interessante Dire Che ogni Trimestre Apple Genera di cassa 20 miliardi Di dollari Quindi stiamo Parlando Di Veramente Una produzione Di cassa Eccezionale Una manovra Finanziaria Assolutamente Sì Ne avessimo Tante in Italia La domanda Che ci si pone Visto che Apple Diciamo Picchi Superiori Rispetto Alla quotazione Attuale Del 15% E se Prospetticamente Quindi nel medio termine Apple Sarà in grado Di avere Un Diciamo Dei prodotti Così attraenti Così innovativi Da giustificare Anche nel medio Lungo termine Una quotazione Del genere E qui Ovviamente Da investitore Noi Delle domande Ce le facciamo E iniziamo A vedere Con curiosità Il titolo Perché È difficile Mantenere Queste quotazioni E avere Sempre prodotti Di così elevato successo Anche perché I concorrenti Lo menzionavamo Prima Samsung Ma la stessa Nokia Che ha una capitalizzazione Oggi Ai minimi Capitalizza Meno di 5 miliardi Di euro Sta provando Anche con l'aiuto Di Microsoft A comunque Risalire la china La stessa Microsoft Sta entrando Con un tablet Che è il Surface Devo dire Abbastanza Ho visto Il video Piuttosto Accattivante Che rispetto Diciamo Alla copertina Dell'iPad Ha una tastiera Anche qui Parliamo Di un'innovazione Magari Può sembrare Minimale O minimalista In realtà Potrebbe essere Interessante Quindi La domanda Che ci facciamo E sarà Apple in grado Nei prossimi 3-5 anni Di sostenere Queste Quotazioni E devo dire Che la domanda Non ha Una risposta Scontata Ecco A proposito di domande Abbiamo ricevuto Una mail Che appunto La domanda La giriamo direttamente A professor Sacco Zena Vuoi leggerla tu? Sì Allora Ci scrivono Si parla tanto Di banda larga Ma mi spiegate Come si fa a parlare Di investimenti I miliardari Solo per navigare Su internet Più velocemente Non è meglio Usare i soldi Per cose più utili? Beh certo In un minuto Perché deve poter Una pubblicità Ancora più difficile Panda larghissima Allora Se si paragonano Gli investimenti Che sono necessari Per poter rendere Le autostrade informatiche Delle autostrade veloci In realtà Si paragonano Alle autostrade Quelle nostre fisiche Gli investimenti Non sono paragonabili Perché il costo Che ha normalmente Un'autostrada Solo per chilometro È infinitamente meno In proporzione Rispetto a quello che c'è Serve Quello che è necessario Per fare le autostrade informatiche Se oggi noi La domanda la facciamo A una persona Qualsiasi In mezzo alla strada Lui ci dice Beh meglio Non essere imbottigliato Nel traffico Che non piuttosto Mettere dei soldi Nelle autostrade informatiche E fare le nuove reti Soprattutto le reti veloci Perché oggi Dal punto di vista quotidiano L'utilità relativa È abbastanza bassa Ma se noi guardiamo La cosa in prospettiva Così come Hanno fatto l'errore I nostri pari Noi potremmo fare Lo stesso errore oggi Ma molto più grave All'inizio Diciamo Delle infrastrutturazioni italiane Si decise di fare le autostrade A due o tre corsie Si decise di farle a due corsie Mai avremo così tanto traffico Da fare tre corsie Il risultato è Che nel tratto Tra Milano e Bergamo Milano e Brescia Si faceva prima Sempre coda Adesso ce ne sono Quattro di corsie Fino a Bergamo E lo stesso Alcune volte Si va molto lenti Man mano che tutto si sposta Ma tutto si sposterà Su internet La domanda Avrà una risposta Molto ovvia E anzi Il vero problema sarà Quando avremo Delle autostrade informatiche Perché la fin Il rischio è che se non allarghiamo adesso Le autostrade informatiche Quindi se non mettiamo giù Nuovi cavi E tutto Rischiamo che avremo tutti Internet lentissimo E invecchieremo davanti allo schermo Assolutamente Assolutamente Basta pensare Oggi All'export Che cos'è che si fa All'export Che non Non implica internet Quando qualcuno vuol comprare Da un'azienda italiana La prima cosa che fa Che cos'è Vede il sito Certo Questo già 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 ci fa intuire L'importanza Di avere una rete veloce Dobbiamo andare a pubblicità Tra due minuti Riprendiamo da qui Parliamo un po' di oro Benissimo Dopo aver parlato Di gioielli tecnologici Parliamo adesso Un po' di gioielli veri e propri Quelli che piacevano di più le donne O piacciono ancora le donne Non lo so Perché ormai Mi hai spiazzato con sta cosa Che preferisci Sì sì No ma io in generale Penso che il mio ragazzo Possa riputarsi fortunato Perché a me i gioielli Non piacciono Quindi Piacere la tecnologia Sì decisamente Vabbè Ma noi facciamo un po' Il Rimendiamo vecchio stile Parliamo di oro Perché in realtà C'è un telespedatore Che ci ha chiesto In questi momenti Di crisi economica Di finanze E così via Ci ha chiesto un po' Se non era il caso Di investire in oro Perché l'oro Lo vediamo Fino a quando Siamo piccoli Nelle fiabe E così via Ci mi ha raccontato Che è un bene Positivo Che arricchisce Che è sicuro Vorremmo capire un po' Se è veramente così sicuro E se davvero È il momento Di investire in oro Allora Comincerei Dalla prima domanda Che farei Al nostro radiologo Perché adesso Lì ci fa la radiografia Di tutto quello Che riguarda l'oro E cominciando La prima domanda E cioè Come si acquista L'oro fisico Io chiederei anche Alle regi di mandarci Anche la grafica Relativa Al come acquistare oro L'oro fisico Si può acquistare In certe banche specializzate Senza fare noi Ma Banche specializzate Appunto Alla vendita Di oro La cosa che inizialmente Bisogna Valutare È Noi sentiamo Parlare di quotazioni Dollaro per oncia E sapere ad esempio Che l'oncia È poco più di 30 grammi Chiaramente E una volta Acquistato Chiaramente L'oro Poi dove lo metto Quindi Sotto il madrasso Esatto Posso brutalmente Portarlo a casa Metterlo in cassaforte Fare una buca per terra Insomma Le cose più Disparate Ma diciamo Normalmente Uno magari Lo ottiene in cassaforte Logicamente Oppure nella cassetta Di sicurezza bancaria O in aziende specializzate Che possono essere Le stesse Che vendono oro Chiaramente Quindi Tenerle Lì E c'è da fidarsi Di queste aziende? Beh Oddio C'è da Diciamo In lia di massima Sì Chiaramente Ma oramai Come c'è da fidarsi Per qualsiasi investimento Nel senso che Bisogna sempre Leggersi il prospetto Valutare Quindi Non vivere sulla fiducia Ormai la pubblicità Era di quando Eramo bambini Noi Chiaramente Non Zena Chiaramente No Quindi la fiducia È una cosa seria Quindi va sempre Valutato Caso per caso Però è senz'altro Più sicuro Che tenerselo in casa Certo Diciamo quindi che c'è Oro fisico C'è quello Sconsigliabile Tenerelo in casa O più che altro Se uno ce l'ha Mare una villa apartata Sicuramente no Più che altro Che se uno ce l'ha In casa Meglio che non lo dica in giro Anche A volte si sa Voglio dire Le voci gira Ecco però Oltre all'oro reale Che è quello A cui tutti guardiamo Esiste anche Una forma di oro Virtuale Che è più sicuro Da punti di vista Della possibilità Che lo rubino Però ha altrettanto Diciamo Prege difetti Ci pare un po' Dell'oro virtuale Che si può comprare E intanto chiedo Alla regia di mandarci Sempre la grafica Relativa Come acquistare oro Come tutte le cose Gli investimenti C'è però il conto Anche perché Se fosse più sicuro L'oro fisico Piuttosto che l'oro finanziario La scelta sarebbe La grafica dopo C'è la 3B Ben fatta E tornando un attimo Comunque visto che è stata pubblicata La slide precedente Chiaramente Dobbiamo vedere che Nel oro fisico C'è anche l'oro Definiamolo Certificato Chiaramente Chiamato Good Delivery Che però Dei tagli riservati A chi ha un certo gruzzoletto Perché sono 12 chili e mezzo Circa 12 e 4 Per il prezzo di oggi Equivalente A poco più di 500 mila euro Chiaramente Ho capito Non è detto che uno Deva per forza acquistare Chiaramente Quel quantitativo Lo sappiamo A puro titolo informativo Esatto Non rischiamo di avere Quelle cifre In mano Potremmo anche interessare A chi ha patrimoni consistenti Bene Rivediamo la grafica Invece appunto Quella sul loro virtuale Chiedo alla regia Se invece vogliamo Acquistare l'oro O meglio investire ETF ETC Certificati Direi Senza entrare Nei particolari Dei prodotti Chiaramente Perché richiederebbe Molto tempo Diciamo che sono Gli strumenti finanziari Alla portata Diciamo Di quasi tutti Infatti come vedete Ho messo Future opzioni Per investitori professionali Che sono prodotti Da insomma Toccare Con le dovute attenzioni Altrimenti Io posso acquistare Dei prodotti finanziari Tipo appunto ETC O Certificate Che investono direttamente Nel loro fisico Quindi io investo 100 euro Piuttosto che 1000 o 10.000 Insomma L'importo che voglio E la società Chiaramente Investe Quindi compra per me Del loro fisico Che poi è conservato Chiaramente In certi Cavour Adibiti Chiaramente Quindi questo Questo può comprarlo Chiunque Ha un conto corrente Online Esatto Qualsiasi Persona che ha Un conto corrente In una banca Quindi sono prodotti Facilmente acquistabili Perché sono quotati Sulla borsa italiana Quindi è semplice Come acquistare Un titolo di Stato Diciamo Non esagererei No Diciamo Perché una quota minima Del portafoglio Va bene C'è un 5-10% Che non di più Bisogna tenere presente Varie accorgenti Però che intanto Il prezzo dell'oro È definito in dollari Noi siamo in euro Sì ma adesso qui ci arriviamo Sto spiegando Come si arriva all'oro Diciamo Poi adesso vediamo Poi anche come Mi ha dato la palla Mi ha fatto il passaggio Perché effettivamente Un conto è La semplicità Dell'acquisto Io posso mettere Anche 100 euro E la difficoltà Sta nel valutare Ad esempio Se conviene Non conviene Acquistarlo E in ogni caso In quote Chiaramente Che non devono superare Certe percentuali Direi 5-10% Ma io quasi Mi manterrei più sul 5% Anche io sì A meno che voglio Giocare un po' ai cavalli Allora posso provare Però non è più L'investimento Del cosiddetto Buon padre di famiglia Vediamo un po' Allora pregi i difetti Dell'investimento in oro Chiedo alle regioni Ma dare la grafica Sulle caratteristiche A favore Poi vedremo naturalmente Quelle anche A sfavore dell'oro Ma tra le caratteristiche A favore Appunto Direi Una prima premessa Che fa da cappello Per me è C'è da distinguere Se effettuare Un investimento in oro Quindi una percentuale Direi Molto contenuta O se uno invece Volesse investire in oro Perché pensa Alla distruzione Dell'euro A catastrofe E dice Metto tutto in oro Così qualsiasi cosa succeda E io A mio modesto parere Direi che Non è la mossa Diciamo migliore Anche perché Se ragioniamo un attimo Nei momenti di disastro In cui Il potere d'acquisto Di molti Non solo italiani Ma europei Verrebbe perso L'ultima preoccupazione Va ad acquistare L'oro Che Gli altri hanno Penserei magari A comprare il pane Piuttosto a qualcosa D'altro Quindi In ogni caso Non Mi sembra Una mossa Azzeccata Tornando invece Appunto Alle caratteristiche Anche qua C'è da dire Che l'approccio Nei confronti De loro È un po' Come l'approccio Verso la religione O si crede O non si crede Perché Come poi Adesso infatti Stiamo vedendo Chiaramente Ci sono vantaggi E svantaggi Innanzitutto C'è da sapere Che sino ad esempio Al 1970 L'oro Era legato Al dollaro Ed era tenuto Volutamente Un prezzo Calmierato Basso Potrebbe anche tornare Perché Rumley Il candidato Repubblicano Vorrebbe Che fosse rassicurata La convertività Del dollaro In oro E questo Cambierebbe molto Signale Vuol dire Che l'oro Dovrebbe avere sempre Ogni volta Che viene emesso oro Dalla banca Centrale americana Deve essi un quantitativo D'oro Che lo garantisce E questo Cambierebbe drasticamente Tutto lo scenario Degli investimenti E' la conferma Che non bisogna mai guardare Con lo specchietto Il retrovisore Perché Poi vedremo Magari più avanti Se negli ultimi Quarant'anni Il prezzo dell'oro È salito Ma se facciamo Il tempo Finale Adesso Vedremo Che ci sono stati periodi Anche molto lunghi Di vent'anni In cui Chi avesse investito In oro Non ha guadagnato niente Infatti l'oro Non è mai tornato Ai livelli Che aveva nel 1980 E la quotazione Recolo del 1980 Rivalutata con l'inflazione Non è più tornata Perciò In vent'anni Non avrebbe difeso L'inflazione Dal 92 ad oggi Invece Una simulazione Che abbiamo fatto Noi Avrebbe reso Il 500% Contro un 61% Dell'inflazione Quindi a dimostrazione Che come Lo si diceva Per le azioni Che non c'è Il periodo lungo Ma dipende Il periodo storico In cui uno ha fortuna Di vivere Per dire Se le azioni O le obbligazioni Rendono di più Lo stesso va Per l'oro È facile dire Adesso negli ultimi anni Ah vedi Se avessi investito in oro Avrei guadagnato Il 500% Se non avessi fatto Negli anni 80-85 Avrebbe perso Tanti soldi Senza considerare L'inflazione Come giustamente E senza dividendi E senza dividendi O i flussi di cassa Cosiddetti Quindi le cedole Quindi anche lì È chiaramente Vediamo qualche caratteristica Il rendimento di Apple Ne parlavamo Negli ultimi Cinque anni Un apprezzamento Di più del 500% Senza considerare I dividendi E vediamo invece Le caratteristiche a sfavore Vediamo se ce la facciamo Prima della pubblicità Ma qualche caratteristica A sfavore dell'oro Allora È un prodotto Che dal punto di È soltanto metallo luccicante Ha scritto Beh chiaramente Quello è Un po' come I concorrenti di Apple Che gli dicono Che Quindi Innanzitutto Ad esempio Non ha un utilizzo industriale Particolarmente elevato Perché gioielli Chiaramente Elettronica Ma dal punto di vista Quantitativo Percentuale Non è il grosso Poi chiaramente Risente Anche dell'acquisto Da parte delle banche centrali Infatti perché In certi decenni Il prezzo scendeva Perché le banche centrali Anziché acquistare oro Lo vendevano Lo vendevano Ultimamente Che si è un po' invertita Proprio Perché invece Le banche Dei paesi emergenti Hanno iniziato A acquistare Acquistare oro Oltretutto Non è legato Chiaramente All'andamento Del dollaro E Ha diciamo Il vantaggio Chiaramente O lo svantaggio Che ci stiamo parlando Di caratteristiche A sfavore Che nel momento in cui L'economia Quindi i asset Vanno bene L'oro chiaramente Perde il suo potere Di bene e rifugio E di conseguenza Si deprezza Comunque Non sale Presentato Un commento al volo Sull'oro Lei lo prevede Come consiglio Da dare ai suoi clienti O se ne sale a larga No Noi siamo dell'avviso Che l'oro Sia da considerare Più che una forma Di investimento Effettivamente Un bene e rifugio Da quindi utilizzare All'interno del proprio portafoglio In maniera assolutamente residuale Quello che tendiamo di fare È quello di investire In aziende O comunque In titoli In obbligazioni Non consideriamo Mai l'oro Consideriamo magari Aziende esposte O che producono Oro Ma non L'investimento In oro to cure Come appunto Forma di investimento Classica Va bene Andiamo in pubblicità E riprendiamo dopo Naturalmente ancora Parlando di oro Vedere un pochino Anche Il rendimento Dell'oro Negli ultimi decenni Anche paragonato Ai titoli di Stato E così via Parlando di oro Per capire un po' Se vale la pena O meno Investire in oro Ci avvaliamo Di un consulente D'eccezione Che è Warren Buffett L'oracolo di Omaha Cioè fondamentalmente L'investitore più Riconosciuto Unanimemente Migliore degli Stati Uniti E probabilmente Anche del mondo Per sentire le sue parole Ce le facciamo declinare Dal nostro attore Felice Froio Che ci spiegherà un po' La visione di Warren Buffett Sull'oro Se prendete Tutto l'oro Che è stato estratto Nel corso della storia E lo mettete assieme Avrete Un cubo Di 21 metri Per lato Con quello che vale Questo cubo Ai prezzi correnti Voi potreste comprare Tutta la terra Coltivabile Degli Stati Uniti E in aggiunta A questo Potreste comprare Anche 10 Delle maggiori Compagnie Petrolifere mondiali E avere ancora D'avanzo Un trilione Di dollari Di spiccioli Con cui comprare Ad esempio Apple Microsoft Google E Intel Quindi ricapitoliamo Voi potete O comprare Tutto quello Che abbiamo detto prima Oppure Tenervi Il cubo giallo Voi cosa scegliereste? Cosa pensate Che produrrà maggior guadagno Nei prossimi 10 anni? E Warren Buffett È molto concreto Molto Pratico E riesce veramente A andare al nocciolo Della questione E direi che Non sembra entusiasta Dell'oro Cosa dice Fra Caro? No ma L'oro è sicuramente Un bene Su cui investire Nelle fasi Di gravi Turbulenze Economiche Politiche Perché ha grossissimi strappi E in quella fase Può essere un investimento È quasi Cioè Un bene rifugio Che protegge Però nel lungo periodo Abbiamo visto Non protegge In questa fase Molto anche Strappa Molto facilmente E sicuramente Una piccola quota Già si può avere Quando si vedono Delle grosse Investire Nell'oro Quando si vedono Delle grosse Nubie all'orizzonte Allora va bene Però poi probabilmente Dopo quando strappa Bisogna anche Probabilmente liquidarlo Non è facile Per investire in oro Io non sono un amante Dell'oro Perché è complicato Perché è inutile dire Che comprarlo anche In lingotti È vero Però la banca Te lo vende a 100 E poi te lo ricompra Non te lo compra a 100 Anche se il prezzo È rimasto uguale Che ci sono Le commissioni Gli strumenti finanziari Spesse volte Non replicano Fedelmente L'andamento Delle quotazioni Così come avviene Poi l'oro Come ho detto prima È espresso in dollari Noi abbiamo monete in euro Perciò spesse volte Anche la variazione È dovuta Sulla variazione Delle monete Poi le quotazioni Dell'oro Dipendono da fattori Che sono poco facilmente Controllabili Dall'investitore Non è che corrispondano A un aumento Della produzione Della domanda Spesse volte Come è stato prima Le banche centrali Lo compano Lo rivendono Poi può succedere Che in Sudafrica Allora Non estraga più l'oro Allora il prezzo Strapisce È molto complicato Certo Una piccola quota Lo si può mettere Però sicuramente Nel lungo periodo Investire Nella produzione Di aziende Che effettivamente Hanno possibilità Di crescere Come è stato Apple È sicuramente Più positivo Ed è più positivo Anche per l'economia Perché se noi Tesorizziamo Tutte le nostre risorse Non si mette più In giro niente Il nostro vero problema Del risparmio italiano Che è il più grande Del mondo Dopo il Giappone È che non l'abbiamo messo Sull'apparato produttivo Non l'abbiamo messo in borsa Non l'abbiamo messo Sull'impresa Tenerlo in oro Non produca ricchezza Tenerlo in oro Vuol dire anche Non contribuire al progresso In pratica Ecco io Questo proposito Chiederei alla Regia Di mandare la slide Sulla grafica Sulla differenza di performance Tra oro e produttori Che è una grafica Che ci racconta un po' Come va l'oro Ma come vanno anche Le aziende Che si occupano di oro Perché qualcuno Mi ha anche suggerito Ma e se io investissi Nelle aziende Che scavano E cercano l'oro E che hanno le miniere d'oro Che differenza c'è Vediamo nella grafica Che la riga superiore Diciamo E quella dell'andamento Dell'oro E quella inferiore E quella dell'andamento Delle aziende Che hanno le miniere d'oro E vediamo che Nel lungo termine Ansemini Non è un grande affare Infatti Questo è il periodo del 2011 Ma questa è L'ulteriore dimostrazione Come diceva appunto Dottor Fracaro Che l'investimento Cioè già è complicato Investire in azioni Perché ci sono chiaramente Tutta una serie di variabili Che però Insomma Avendo dei buoni analisti Si può chiaramente Prevedere Nell'oro invece no Perché è tutto veramente Molto troppo complesso E Poco controllabile Dall'investitore Lo dimostra il fatto Che chi dicesse Ma io anziché investire in oro Acquisto le azioni Dei produttori Non è sempre Non si hanno sempre Ottenuti gli stessi risultati Perché le variabili Sono diverse Le miniere Non nascono ogni giorno Non è possibile Continuare a estrarre oro Ci sono problemi di costi E quindi in realtà Magari l'oro sale Per quelle variabili Perché magari Le banche centrali Stanno acquistando Ma le miniere Quindi le aziende Chiaramente Che estraggono oro No Perché hanno Estreme difficoltà Quindi in ogni caso Se già investire in oro È difficile Investire nelle aziende È come giocare Ai cavalli Certo Poi c'è anche La questione sociale Perché abbiamo visto Recentemente Ci sono anche Rivolte Oltre poi Esatto Entranno in un mondo Ancora più complesso Vediamo però invece La quotazione dell'oro Nella slide Che è chiamata Grafico Giornaliero oro Di tre anni Per vedere Negli ultimi tre anni Come sono andate Le quotazioni dell'oro Vediamo Sono quelle La riga superiore Con la bianca Naturalmente Vediamo che Negli ultimi tre anni L'andamento È stato Sicuramente Più che Positivo Però A fianco di questo Direi Guardare anche Quella Chiedo le regi Magari invece Il grafico dell'oro A quarant'anni Perché a quarant'anni Si ha una visione Più globale Di come possono andare Le cose Vediamo qui Sì Oltretutto Questo grafico Si ferma Chiaramente Non ad oggi Ma chiaramente A qualche anno fa Ma per me È significativo Perché in ogni cosa Bisogna valutare Veramente A largo spettro Quindi come un'aquila Dall'alto Cioè comprare oggi Vuol dire Comprare a livelli Molto alti Vabbè Senza dubbio Poi abbiamo visto La cosa in cui Essere consapevoli Che l'oro Può andar bene Nel momento in cui Un punto si vedono Nuvole All'esterno O temporali E avere poi La capacità E lì diventa Difficile Di uscirne poi Perché nel momento in cui L'economia Si riprende Nessuno telefona Dicendo Guarda che l'economia Si sta riprendendo Perché Una volta che uno C'è l'oro Poi non lo vende Secondo me C'è questo grosso rischio C'è un senso Del possesso Che non c'è Forse nelle azioni Perché quando uno Vede che un'azione Sale e la vende Non c'è C'è l'oro Qualcosa di ancestrale L'oro C'è anche un po' di psicologia Come se fosse un po' Un immobile quasi Lo compro Perché tanto Fra 30 anni Varrà di più Anche lì non è sempre Sempre vero Poi sempre riguardo All'oro Prima Intanto chiedo alla regia Di mandare il grafico Euro-dollaro Perché appunto La quotazione dell'oro È legata al dollaro E questa forse Un'altra cosa Che complica ancora di più L'investimento In oro Ecco Vediamo qui Che appunto Ottobre 2011 E vediamo Fino a questi giorni Vediamo che È abbastanza ballerino L'oro Quindi Ansemini Comprando Oro Che viene valutato in dollari Rischiamo Ci dobbiamo tenere conto Anche dell'effetto cambio Senza dubbio Che può cambiare molto È una delle tante variabili Chiaramente Che entrano in gioco E che normalmente Non si pensa Si dovrebbe pensare Chiaramente Ma non si pensa E quindi Devo anche magari Valutare Però ripeto È solo una variabile Quindi dire Acquisto l'oro adesso Perché c'è il dollaro Che è basso Che poi dire basso o alto È tutto irrativo Però magari è più basso Di qualche mese fa O di un anno fa Perché così Guadagno anche su quello Devo anche essere consapevole Che invece Il prezzo dell'oro È decorrelato Quindi uno sale L'altro scende Insieme a tutte le altre variabili Cioè in sostanza Metto insieme Quasi dieci variabili E se una sola Si muove Non è detto Che vada Secondo la mia direzione Quindi Bene Allora A questo punto Vediamo se abbiamo ancora tre minuti Darei un'occhiata Al portafoglio Di questa settimana Di Classis Capital Insieme al dottore Esentato E chiedere alla regia Di mandare la grafica Tendenze Portafoglio Classis Capital E se vuole cominciare A anticiparci Dottore Esentato Cosa Cos'è cambiato Nella vostra gestione Nel vostro portafoglio Standard Diciamo Allora qui Intanto ribadiamo Che questo è un portafoglio Cos'è detto ideale Modello Sono tre settimane Che è uguale Nessuno che dite Meno azioni E più obbligazioni Titoli di Stato Tendiamo ad essere Come dire Coerenti e rigorosi Nel nostro approccio Quindi Nonostante Devo dire Risultati Che stanno nuovamente Sorprendendo Al rialzo Soprattutto negli Stati Uniti Con Dichiarazioni da parte Di esponenti Della Federal Reserve Ne è uscita Proprio oggi Una Che dice Che l'aspettativa Di crescita Degli Stati Uniti Sarà pari Nel prossimo anno Al 3,5% Con un tasso Di disoccupazione Che sarà Pari o inferiore Al 7% Che è Se vogliamo In controtendenza Rispetto a uno scenario Molto più fosco Dipinto solo 10 giorni fa Restiamo abbastanza Come dire Prudenti Sul lato azionario Perché comunque Il ciclo economico Resta Piuttosto Definiamolo Riflessivo Cina e India Nel prossimo anno Hanno Tassi di crescita In pesante Ribasso E anche sugli Stati Uniti Comunque Esistono alcune variabili Macroeconomiche Tipo Il deficit Fiscale Che dopo le elezioni Sarà chiarificato In un senso O nell'altro Quindi restiamo prudenti Dalla parte Diciamo Per quanto riguarda La componente azionaria Restiamo positivi Sui corporate bond Rapidamente E quindi sulle obbligazioni La cosa interessante È vedere In una grafica La volatilità Dei singoli strumenti Quindi vedete Ok Chiedo alla Regione Di mandare la grafica Sulla performance Intanto Mentre presentato parla Prego Sì La cosa interessante Del grafico Che abbiamo preparato È Al di là ovviamente Della performance Vedere la differente Volatilità Nel grafico È evidenziata Ad esempio Una performance Abbastanza simile Del portafoglio Che noi abbiamo costruito Ad esempio Del BTP A 5 anni Ma la volatilità È molto diversa Perché la diversificazione Anche qui Sugli strumenti Lo vediamo adesso È diversa Ecco Vedete La linea Blu Marcata Il BTP A 5 anni Vedete che la volatilità È stata superiore Rispetto al portafoglio Danno incostruito Che è quello tratteggiato Vedete che L'azionario Italia Il Fuzzi Mib Ha avuto un rendimento Superiore Ma la volatilità Anche qui È nettamente superiore E questi sono Anche qui Degli aspetti Da prendere in considerazione Quindi volatilità Del portafoglio Che significa anche rischio E diversificazione Dello strumento Quindi cercare Di diversificare Che non significa Avere Cento azioni O cento obbligazioni Senza criteri O con variabili Talvolta poco difficili Da seguire Ma avere Ma avere Una indicazione Una certa coerenza Però costruire Una certa diversificazione Anche per area geografica E anche in termini valutari Il timing In cui è fondamentale Mi piace ricordare Che l'euro Era 0,86 Si sarebbe quindi Rispetto al dollaro Avremmo avuto Più del 40% Di ribasso Perfetto Do la parola subito A Zena Per la chiusura Visto che siamo Oltre il tempo limite Allora ringraziamo Il dottor Maurizio Zentato Di Classics Capital Roberto Anselmini Consulente indipendente Francesco Sacco Il professore Dell'Università Bucconi E Massimo Fracaro Del Corriere Economia Il direttore Io ringrazio Zena Vi auguro buonanotte Ci vediamo naturalmente Settimana prossima Sempre alle 23 Sempre su Telenova Grazie a tutti